amici tecnologici.net ciao a tutti bentornati alla rubrica riguardanti i consigli sui videogiochi android partiamo con questa edizione di settembre con rambote vi ricordo che questi non sono non vogliono essere delle recensioni ma vogliono essere semplicemente dei consigli su giochi che potrebbero piacervi rambote un gioco che ricorda la grafica del celebre meta slug che consiste semplicemente nel tappare o meno sul display per andare avanti cioè voi cliccando sul display in tutte le posizioni andrete a avanzare con la vostra barca e il giocatore il il vostro rambo sparerà da solo nel momento in cui entrerà nel raggio d'azione dei vostri dei vostri nemici con uno swipe verso il basso entrerà sott'acqua uno swipe verso l'alto salirà smettendo di tappare voi tornerete indietro e non potrete più ovviamente ovviamente sparare se non siete nella disponibilità del vostro nemico un gioco semplice un gioco intuitivo veramente che non richiede particolari impegni o particolari abilità un gioco da ovviamente da sfruttare anche nei ritagli di tempo senza particolari impegno senza particolare impegno mentale come vedete qui con un swipe verso il basso abbiamo schiacciato questa bomba un gioco simpatico veramente simpatico e soprattutto gratuito il che ovviamente non guasta mai il secondo gioco che vogliamo proporvi è questo speedy car speedy car che è il gioco un gioco molto interessante perché va a riprendere un po la stregua dei infinite run game come può essere ad esempio un tempo run come funziona funziona semplicemente con un tap a destra o a sinistra del teleschermo scusate del display teleschermo un'altra cosa peccato per queste pubblicità un po' aggressivo ma vediamo un po questo speedy car tappando a destra voi avanzerete sul lato destro tappando a sinistra voi avanzerete sul lato sinistro direte molto semplice sì molto semplice in teoria in pratica è un gioco abbastanza complesso perché i controlli non sono molto fluidi vi faccio vedere voi premendo vedete l'accelerazione è abbastanza irrealistica voi dovrete schivare taxi furgoni e raccogliere quelle monete che vedete più avanti l'obiettivo qual è è quello principalmente di raccogliere monete per potenziare la vostra auto e di raggiungere ovviamente la distanza maggiore e battere i vostri record non potete frenare potete solo semplicemente mollare il dito dal display e far sì che che l'auto rallenti un gioco simpatico divertente gratis anche in questo caso un po più complesso rispetto al precedente perché bisogna prendere la mano con con la gestione di un controllo che sicuramente non è perfetto rischi rescue è l'ultimo gioco un gioco veramente molto simpatico questo perché dalla qualità può sembrare un gioco a pagamento ma anche in questo caso un gioco gratuito voi anche in questo caso dovete premere a destra o a sinistra per far salire l'elicottero in una direzione o nell'altra toccando qualsiasi cosa vedete l'elicottero esploderà anche in questo caso pubblicità molto aggressive vi faccio vedere voi dovrete ovviamente come dice il gioco salvare i vostri questi piccoli omini una volta salvati tutti dovete riportarli alla base si parte questo è già un livello un po avanzato ma si parte ovviamente da un livello base riportati qua vi darà ovviamente un punteggio rispetto agli altri due questo gioco è sicuramente più longevo perché diventa sempre più complesso man mano che si va avanti con con i livelli e è un gioco che come vedete è diventa difficile diventa difficile perché soprattutto i controlli sono anche in questo caso non perfetti ma secondo me prendendoci la mano può diventare un titolo veramente interessante perché vedete è anche molto appagante dal punto di vista estetico quindi chiudiamo questa rubrica con rischi reschio anche in questo caso è un gioco gratuito se volete consigliarci qualche titolo particolare che vi viene in mente scrivetelo qua sotto se volete che questa rubrica continui mettete un pollice in su e ovviamente ci vediamo a ottobre con la rubrica di gaming di technology.net Grazie a tutti Grazie a tutti